Buongiorno Presidente, qual è il ruolo della Fondazione Ugo Bordoni, partner tecnico della pubblica amministrazione? Un ruolo fondamentale è quello della Bordoni che ormai è diventata una realtà a livello internazionale e ci stiamo spingendo anche oltre i confini internazionali verso quelli mondiali nel campo della ricerca scientifica e nella ricerca applicata. È chiaro che il Ministero abbia la necessità di un supporto costante nel campo della ricerca in virtù di tutte le problematiche di cui oggi ne stiamo affrontando una col titolo del convegno che si sono create nel tempo e che continueranno a crearsi. Devo altresì aggiungere che noi siamo sotto vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico quindi a maggior ragione siamo un partner fondamentale per il Ministero. Grazie mille, arrivederci.